Nelle nostre zone per il momento e per fortuna indenni dal problema della peste suina ma Confagricoltura Toscana chiede che venga tenuta alta l'attenzione dopo che in provincia di Padova è stato sequestrato un camion all'interno di un doppio fondo c'era infatti carne importata illegalmente dalla Cina. Ancora in Italia non risultano focolai di peste suina è premesso anche che questa malattia non si attacca all'essere umano dovesse svilupparsi anche in Italia, questa sarebbe una catastrofe sarebbe una catastrofe per le nostre aziende agricole perché vorrebbe dire in molti casi la loro chiusura in questo momento non ce lo possiamo assolutamente permettere. In Cina la peste suina ha portato all'abbattimento di circa 200 milioni di animali in caso di epidemia il danno economico sarebbe altissimo per le aziende di allevamento del nostro territorio e anche per l'export agroalimentare nazionale. Il diffondersi della peste suina negli allevamenti prevede l'abbattimento di tutti gli animali e il blocco delle esportazioni di carne suine derivati. In Toscana, ricorda Confagricoltura, è importante tenere sotto controllo la popolazione di cinghiali portatori sani della malattia in un momento storico in cui il loro numero è sempre più alto. Come dimostra, questo video è diventato virale sui social in cui si vedono i cinghiali scorazzare nel parcheggio dell'ex Ipercop di Arezzo. Come si può vedere ormai è completamente fuori controllo. Li troviamo anche dentro le città, li abbiamo trovati anche ultimamente dentro Arezzo. Si parla di almeno sei volte il numero massimo che il nostro ambiente potrebbe contenere.